musica 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 chi lo conosce sa perchè ho detto questo no aspettate fermi tutti mi piace i i e i i i i i i i i niente riposo vabbè comunque siamo ma allora esco vediamo azioni comandi che cosa? niente sto configurando i comandi i pezzi restanti a spera si trovano nel coro corare cantare ciel blu dipinto di blu non mi va di leggere aspetta salvataggio accorto l'ordine dell'agula nera sputava la sua politica mentre io sedevo tranquillamente al mio posto volutamente dimenticavo una volta ogni tanto qualcuno mi noterà e si rannicchierà prima di recuperare i sensi sanno tutti che io sono l'unico che ho senso alexander che aiuto i loro padri e loro nonni a trovare questo grande ordine li ho visti prendere in posto i loro padri e anche loro invecchiere vecchieranno e moriranno mentre io resterò la stessa persona invecchiata al nord del tempo pensi dall'angoscia coglioni l'ultimo video per chi mi ha seguito voglio che mi dica che modo faccio che modo devo fare ok si dobbiamo qua il coro ma coro ingresso ok allora così dovrebbe andare bene il coro ingresso che modo o pregui che è giusto il coro ingresso il coro ingresso è nel coro ingresso il coro ingresso è nelle mi attività è l'acqua no tempo per ma che dia me ne stai a fare lorenzo che sottofondo metto b mettiamo mettiamo lo so io mettiamo e deve essere qua e ok andiamo giù sono troppi sti comandi ma zitta te del resident evil va bene e che cosa bello vero no schifo punto ma ci sarai davvero allora fallite meno muovite cazzo stai veramente lento non che ti mangi che cosa ti mangi sante acquisto al morto iberna è morto che c'è l'acqua caccherino cartilaglio per un muoio a tp ma di certo E bene andiamo Alla del volume così sente più di me Alla fine Coro Coro La 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 Anze è buono Anze è buono E bene andiamo E questo ha detto che è il coro Daniel Quali sono le inventazioni? Bene Daniel Non c'è Cacchio What the fuck Ecco l'attenzione Tu sarai la fattenzione Comunque 2 di gamma Scusate Solo per il coro Perché non si vedevo niente No No Pauro Pauro Cominciano già soccasciato Appunto Appunto va bene Ma la sua Ma la sua Bene E andiamo qua Ma sa che non ci stanno mostri Beh Andiamo qua Sbighiamo che mi metto a studiare No Poi Speed Ah è già Ah è già Domani che abbiamo la prima prova di esami Che noi quelli elementari non l'abbiamo fatti Vero Ah è già Ah è già E' già Ma cosa vuoi dire solo è già È già Sì perchè sono occupato non sto pensando nemmeno a quello che dico perché sono occupato al contrario di te io sono i miei fans ah ah nei troppi c'è roba un cocom gira aspettate 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 sentite youtube ma che è sta roba la fortuna puoi trovare anche tu gira la ruota gira la ruota e se vinci ti diverti di più di più di più di più andiamo a fai serie come se lo fossi non è vero comunque usciamo andiamo da qua da lì che si è avvenuto ok ok non ho più pulsanti liberi del joystick più pulsanti liberi per il joystick perchè le ho usati tutti ok ci sono i cili what the fuck parta dello schermo ho usato che hai fatto che hai fatto non che ha la moch che sefalle canne secondo saburo ben ben estimo di un basale come di personalizzati pobo ciao adios miss amica via adios adios carolina ahahah ahahah no, zitto mi insulta un po' carolina zitto zitto dove c'è andato ma quella parte però è chiuso qua via la ruota ieri quant'è grande sta soffitto no mi ha configurato male un tasto che tasto data che me lo spieghi a me lo spieghi a me dopo un figlio no sono lo mette bene sti cazzo dettagli aggiosti aglio istituto sorella ma stai coi cuffie acqua buon attenzione augur male che qua ci debba essere l'ultimo frammentato la sera che cazzo lascia tutto nel sangue wow entriamo chiudiamoci no lo chiede si il foggiatore rimase dentro e si stuprò aia via ciao laggio ciao ciao ciao